Non si può essere cristiani fuori dalla Chiesa che madre ci fa crescere nell'amore in Gesù Cristo. Pregate lo Spirito Santo perché questi bambini possano essere sempre nella fede. Nella suggestiva cornice della Cappella Sistina, Papa Francesco ha colto nella famiglia di Dio 33 bambini, amministrando il sacramento del battesimo. Ai genitori, alle madrine e ai padrini, così come ai nonni, il Pontefice ha spiegato la forza della catena della fede che si dipana lungo la storia di generazione in generazione. Invitando tutti ad aiutare queste piccole vite nel loro cammino come popolo di Dio. Un itinerario che si deve compiere in seno alla Chiesa, nutrendosi della parola di Dio e pregando, immersi nello Spirito Santo, cioè nel calore dell'amore di Dio. Voi mamme, date ai vostri figli il latte. Anche adesso, se piangono per fame, allatatevi. E tranquilli. Ringraziamo il Signore per il dono del latte. E preghiamo per quelle mamme, sono tante purtroppo, che non sono in condizione di dare da mangiare ai suoi figli. Preghiamo e cerchiamo di aiutare queste mamme. Dunque, quello che fa il latte per il corpo, la parola di Dio lo fa per lo Spirito. La parola di Dio fa crescere la fede.